Ave popolo di Youtube, io sono TearlessRaptor e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Forthcraft Oh yes baby, bentornati Dunque gente, come di consueto quest'oggi siamo qui in compagnia di Eren, Tano e Tech E immagino che oramai abbiate potuto intuire, sia guardando il titolo, sia guardando i video che avete già visto sul canale di Eren e di Metano Che quest'oggi abbiamo delle novità davvero devastanti Oserei definirle delle bombe Perché da un lato ragazzi, come immagino abbiate potuto intuire dalla location in cui ci troviamo al momento Non siamo più nella mappa futuristic, bensì siamo in una nuova mappa che un po' a sorpresa è a tema western Quindi ci siamo un attimo staccati dalle classiche mappe con le città futuristiche Comparazioni molto molto alti per passare ad un qualcosa di più piatto, di più vuoto, di più desertico per l'appunto E credetemi, è una figata pazzesca, ma questa qui non è l'unica novità all'interno del video di oggi Perché infatti un po' come succede su Fortnite abbiamo deciso di preparare una modalità speciale La modalità solo esplosivi All'interno dei Lucky Block infatti potremmo trovare soltanto armi in grado di generare esplosioni Che siano granate, che siano lanciarazzi, che siano cecchini esplosivi Ma non solo, abbiamo aggiunto anche delle armi esclusive soltanto per questa modalità Ad esempio abbiamo il C4, abbiamo le Molotov, abbiamo il pompa esplosivo ragazzi Abbiamo il pompa esplosivo Insomma sarà una figata pazzesca pertanto non ho intenzione di portarvi via ulteriore tempo Vi auguro una buona visione e che vinca il migliore Dunque gente, come potete vedere da questi tre splendidi omaccioni Quest'oggi cominceremo la partita direttamente con l'armatura leggendaria Perché credetemi ci servirà, visto che le esplosioni sono qualcosa di devastante E avere l'armatura leggendaria ci tornerà comodo Perché non prenderemo così tanto danno Ragazzi siete pronti? Sì Siete pronti a prendere parte a questo video esplosivo? Esatto Siete carichi il timer è pronto? Grazie che l'hai detto adesso perché nell'intro non l'hai potuto fare Dai andiamo Fate popolo di YouTube Sì È pronto il timer? Ave Ave E lo prendo comunque sì Quindi al mio 3 Al mio 3 andiamo Va bene 3 2 Attivato 1 Via Tanno non c'era arrivato mai Vabbè Cosa? Ho detto al mio 3 andiamo e ho cominciato dal 3 a fare il countdown E tu eri per affermo Perché sono simpatico Ma tu sei proprio sicuro? Parli con me? Sì Perché sì sono sicurissimo Vuoi? Devi usare le armi esplosive Tu sai le caramelle Lo so lo so le caramelle Conosco anche le mie capacità Quante volte sono morto perché mi sono tirato delle cose esplosive in faccia Ma cosa avete messo? Ah ragazzi Questa è bella Io ho trovato del C4 Io ho trovato del Molotov Il C4 è una cosa bella Bellissima Sì le Molotov sono incendiarie In pratica vanno a creare un'area di fuoco attorno al punto Raga questa qua è l'arma della vita Cosa hai trovato? Non ve lo dico Aspetta Ah Sì Capite E questo? E' questo? Ho trovato lo spasso con le munizioni esplosive Anch'io però Giusto per inter Raga è giusto per farlo vedere a voi Così freschi A voi iscritters Siete pronti? I iscritters Già Lancia granate Impatto Ah questo qua è il C4 e funziona nel seguente modo Lo faccio vedere E' una sorta di showcase della mod Infatti Questo qua è comodo Scusa 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 non volevo Ti faccio azzannare da Giuliano Woof baby Woof Che ansia Woof baby no però Ecco no Sapete quella è la cosa che temo di più? In questo momento Meta no? No me stesso Perché so che per sbaglio cliccherò sul tasto destro Invece che sul sinistro E mi sparerò addosso qualcosa Le caramelle Oh yes baby Due medikit Così Io ho trovato le caramelle raga Ho 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 Ovviamente tutte quante le altre armi Sono state rimosse dal gioco Come mi sa che l'ho giudito nell'internet Che ho fatto off camera perché oggi non so parlare Alla dislessia In realtà non c'è la modo di saperlo ora Beh no però Lo capisco Lo che è quando è fatto off camera Quando non lo ha Woof stinger Woof lo stinger è carino E' lento ma è un sacco carino Ok Ma se io incontro qualcuno posso sparare? Sì 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 No Allora sparo Se incontri Tano no Se incontri Tearless sì Tano L'animazione dello stinger è buffissima L'animazione dello stinger Tano bellissimo E quando inserisci sembra che mette l'ago in una cerbottana Ah quello sì sì Ma ragazzi ma quanti proiettili avete messo nell'RPG? L'RPG Un Un sacco Un sacco perché l'RPG non è una grande arma Cioè non è un'arma buona di fatto No E si è vista negli ultimi video Effettivamente Non è in realtà Sì Vabbè Cioè Boh No Non lo è Però Non ho pensato al fatto che occupa un sacco di spazio Era lenta Cos'è sta roba? Oh Il C4 Queste mi piacciono Il C4 è bellissimo Esplosivo plastico Oddio Me le ha caricate entrambe Che top Quindi sia le impact che le bounce Possiamo preparare delle trappole con il C4 Eh esatto Era quella la mia intenzione Eh ma Mettermi a fare i trappolozzi Eh ma ora lo sappiamo Eh lo so però Insomma immagino che Se ci siete arrivati voi stessi Non serva nulla Ragazzi io trappiarmi belle nell'inventare Non so cosa buttare Queste sono le molotove Mi divertono Ragazzi io tiro una molotov Perché voglio sapere com'è Esatto Però anche io L'ho appena lanciata per farlo vedere Crea del fuoco per terra Un po' Oh fantastico È un po' disappointing come cosa Perché non è proprio Ti aspetti un'esplosione O qualcosa di figo Invece no Semplicemente appare del fuoco E basta Beh è già qualcosa Sì quello è vero Diciamo che un po' Non fa rumore ecco No quello no Quello no Ecco forse quella è la cosa strana Che non faccia rumore Ci vorrebbe rumore Che si rompe la bottiglia Sì Ci starebbe Anche il rumore del vetro Di Minecraft Andrebbe benissimo per dire Esatto sì Non si chiederebbe moltissimo Però Cosa mi ha droppato Oh nice Questo mi piace Ma dov'è che sto noiettando io Dove sto andando Però sapete che Sto andandomi Sto andandomi Io non ho trovato tanto Tante cose comuni Ah tra l'altro No infatti Apro una piccola parentesi In questa versione della mappa Siccome Nella versione standard Diciamo Di Fortcraft Abbiamo aggiunto Delle nuove armi Abbiamo un attimo Boostato Le possibilità Di ottenere armi fighe E di conseguenza Probabilmente Proprio per questo motivo Ci saranno un sacco di armi Più rare E più fighe Anche qui Piuttosto che Ma ci sta Però ci sta Ci sta Stiamo inaugurando Stiamo inaugurando Esatto È giusto così È giusto così Che si inauguri col botto Epico Epico No Ma non ti sono arrivati I miei razzi Tear No Che triste Sono arrivati Non li ho sentiti È mettato lo stinger Sì Sei lì che parli Non ci credo No Non è che faccio vedere niente Che proprio non l'ho sentito I suoni di minecraft ci sono Ehi Eri in blaze Che ci fai lì Eh Mi diverto Tano Guarda come mi diverto Guarda che c'è Una bella cassa Qua in alto Uuu Altre caramelle Raga Ho le gommose Della Aribuo Adesso anche La jump non ha funzionato Come doveva Cosa significare In questo Significa Che ti devi fare Gli affaraci tuoi Oh ma come cazzo ti permette Era in blaze Se non fosse per me Tu non salesti qui oggi Cosa scusa Scusa Cosa No È questa cosa Sì è vero Puoi ripetere Gentilmente Se non fosse stato per me È stata una cosa pesantissima Cosa È stata pesantissima Che poi non è vero Immediatamente Nella tua stanza Ma chi ti credi di essere Era in blaze Vai in castigo No Non metto cuore di danno No Youtubicamente parlando Non ti permettere Parlando Sì Spero non anche Nella realtà Sarebbe inquietante Abbastanza Ma perché l'avete chiamato Raga ma perché l'avete chiamato Pompalezzo Ah sì Non sapevo come chiamarlo Che cosa C'è un pompa che si chiama Pompalezzo Ah c'è il Remington Che tra l'altro non l'ho ancora trovato Ne ho due Ne vuoi uno? Il Pompalezzo è il Remington Semplicemente Ah ma c'è ancora Scusatemi Tanno che l'ha chiamato Pompalezzo Lo so io non l'avevo trovato Il Remington Sì sì c'è Puoi trovare con le munizioni esplosive Ah sì è la firma di Tanno Chiedo scusa allo Stinger Però ragazzi Lo sto droppando Ma anch'io lo buttate via Tutte quelle di Stinger Cioè basta Troppe Ho buttato proprio lo Stinger io raga Ma io sto buttando via Anche tantissime munizioni di RPG Cioè esagerato Dai No perché Se potessero Se potessero Eh Sì no Vergognati No No Potrebbero Volevo dire potrebbero Però ho detto se potessero Fai schifo Ho detto se potessero Oddio raga cosa ho trovato Almeno è corretto Avessi detto se potrebbero Sarebbe stato peggio Così trovate No basta basta Granate impatto Granate incendiarie Eh quella è bella Eh sì 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 Siamo pieni tutti Siamo pieni Siamo pieni Però non so voi Io non trovo C4 Io lo trovo C4 io Ragazzi io Cioè Ho solo armi Lanciabili Non ho niente Cos'è questa roba qua Ah lo Stinger Non ho neanche Il Pompalezza Zero No raga Io tiro lo Stinger Tanta roba Voglio parlare Lo Stinger Capisci Beh lo Stinger ci sta È buono Ma quanto è lento È lentissimo Vediamo Ah giusto per farlo vedere Così capiscono Ma c'è una gittata Cortissima Eh esatto Basta granate È pessimo Effettivamente lo Stinger Lo lascio giù Non serve a nulla Io pensavo che da qua Dove devo qualcosa A chilometri No 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 Raga ho trovato qualcuno Io ma non so chi sia Vicino alla barca Chi è No non sono io Vicino alla barca Dove sei Tano Vieni fuori Stami lontano Sono io Tano Vieni fuori Stami lontano E se fossi io Che sono l'unico Che ha detto che non è lui Non è che sono io E sono io invece Nice E ti ho beccato Almeno una volta Raga perché c'è un barrette In giro Perché qualcuno Avrà aperto Ah è vero Avrà trovato il barrette esplosivo Ma è già il secondo Hai perso il barrette No 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 Magari ne hai già trovato Più di uno E potrebbe aver preso Stanto le munizioni Non ho le munizioni Però per il barrette Io ho la telecomandi Ai telecomandi Lo trovate un paio in giro Ma lo lanciate anch'io In giro Ma qua Quante molo Raga Io ho solo molotov Nell'inventario Dai dai No Tec Per pochissimo Ah io Cosa No raga Ha fatto una pazzia Ha fatto una pazzia Cosa ha combinato L'ho fatta Mi ha colpito Mentre volavo in aria Ma l'ha levato tutti fuori Tranne uno Cosa Con cosa mi ha colpito Con cosa mi ha colpito Raga E questa Lo sai che io tiro un colpo Oramai E in Oh Ma siete pazzi Pazzo Oh mio dio Oh Tano Ti sei cagato eh Mamma mia È tantissimo Dove sei Tano Sono intrappolato Dove sei te Però ti è piaciuto il colpetto Ma no Ma era assurdo Mentre volavo così in alto Ma lo sai che ormai Sono fatto così io Oh Eh Tano Volevi Ragazzi dai Venite via al party Alla barca Alla barca Siete dentro la barca No no Intorno Nelle montagne Taccanto Ok Arrivo Arrivo Qua c'è un party assurdo eh Eh si Bombe in mano Tricchettrack Qua Via c'è dai Eccolo là No il barret no eh Oh mio dio L'ho sentiato in faccia Questo Io ve lo dico Non vi avvicinate Ragazzi Suonato Suonato È stato attivato qua Dovevo attivare Ha 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 Rido 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 Oh Jumperino Ma basta Sti Stinger Non ti voglio Non ti vuole nessuno Stinger Non ti ama nessuno Ciao Tano Ehi Ehi Tano Guarda come mi diverto Ehi 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 Jumperino Jumperino Hai jumpato anche tu Eh si Ah Han jumpato tutti qua Chi è quello là Ah Non so chi sia Chi è che sta volando ora Da una montagna Fino a Un Alla tratteria Dai mettiamola così Chi è che si è shiftato Con un piccone in mano Eh Tech No Oh Dove sei persona Ti ho vista Oh Oh Mio dio Che cavolo di spavento ho preso Ah Ups Che Spavento Raga Madonna Non ti hanno fatto nulla Le caglio No Ho mezzo cuore Ho mezzo cuore Visto Madonna che ansia Dove è andato Dove è andato Vabbè senti Il diavolo voi Tutti pazzi Sì pazzi siete Veramente Madonna che ansia Meno male che avevo un altro medikit Sì ma io pensavo che mi stessi targettando Ti E poi non pensavo che fosse Tano Che parlava di me No E poi era dall'altra parte Ma io non sto scappendo nulla Guardalo lì in mezzo Ti è piaciuto lì così Che ansia Con le monotope in faccia Raga Oi Dove sei Tearless Lo so che sei qua Ma siete tutti Shiftati o dove siete scappati Un'altra jump No io non sono shiftato Io ho paura Ma nemmeno io non sono shiftato Vedi infatti tutti Ragazzi Oh cavolo No Maledetto Con il cecchino Alle spalle Alle spalle Infame Con il cecchino Come al solito Vabbè Ah non fuori Sapete qual è la cosa brutta Che Di fatto Che al cecchino ha vinto Sì No 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 ma non per quello Di fatto Esplodendo una persona Non troppa nulla Quindi Non c'è possibilità di migliorare Da quel punto di vista Sì è vero Eh il cecchino Il cecchino se va a segno Purtroppo è OP Ma infatti È l'unica arma leggendaria Infatti Volevo dirvelo Vabbè lo dico dopo Ma raga Io vorrei contestare una cosa Chi al cecchino non ha vinto Perché c'è il pompa Che è OP Il pompa è ancora più OP Eh l'hai sentita il mio pompa Ma dove siete finiti Non vi vedo più E nemmeno io Siete shiftati Ah eccolo là Con chi ce l'hai Con te Tearless Con chi vuoi che ce l'abbia Dove sei Metanino Dai Youngme Vieni fuori Youngme Non è nata a testa uomo E questo è il problema Per questo non puoi uscire Se ne ha la mia testa Sì Che funzioni anche a metà Magari No 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 Ah Pensa te Perché vai in bocca a Tec Ora No 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 Non è vero Tec non è qua Poi comunque Cosa sta succedendo là Non sapete le mie tattiche È una nuvoletta di fumo Oh mio Dio No 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 Cos'è successo Mi sono ucciso da solo Ti Non ci credo Mi sei sparato da sole Sei morto di danno da caduto Non ci credo Ma porca miseria Non capitava da troppo tempo È bellissimo Estupido Ok Andiamo a vedere cosa fanno gli ultimi due Scusate Dove sei Tano Non ci sto credendo Ma porca miseria Tano vieni fuori Ma non ci sono io Ma dai avevo Tano sottotiro Più o meno Cacchio Tano ce l'aveva in tiro? No Eh invece mi sa di scegliere Pesa Cosa pensi di fare scusami Si te che con il lancio e il granancio devi avere una cosa perfetta Non ho più colpi Oh cavolo Ma dove hai finito i colpi di tutto Tano? Si non ho più colpi di nulla Piccone 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 Dove sei? Oh che gattimeria L'esplosione ci vuole Guardate l'iconcina Che strana Gigi Ah la delusione Che colpo Comunque te che l'hai chiamata All'inizio hai detto Guarda le caramelle non ti ricorda qualcosa? Eh ecco mi sono ucciso con una caramella E dunque gente Da Tierless Raptor per questo video esplosivo di Forcraft è tutto Siamo tornati a farci del mare da soli Ci mancava questa cosa Salutiamo il buon Tano che ha vinto la partita Salutiamo anche il buon Tano e il buon Eren che hanno partecipato Soprattutto il buon Eren che si è fatto brutto al cecchinare E ragazzi da Tierless Raptor è tutto Noi ci vediamo domani con un nuovo video Avete una buona giornata Bye 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 No Che disastro Io volevo uccidere Tano ma Tano è scappato prima Dannato Ciao 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 Ciao